Come si mostra nelle immagini di Paolo del Ponte? In un affollato auditorium Cianfarani al Museo della Cevitella è stato presentato il volume per i cento anni del liceo scientifico Filippo Masci di Chieti, 1923-2023. Il liceo iniziò le lezioni il 5 novembre 1923 e fu uno dei primi 37 istituti in Italia con la riforma gentile. L'evento organizzato dall'Associazione Amici del Masci, presieduta dalla professoressa Rosanna Gialloreto, ha visto la presenza di docenti e alunni, molti ex professori ed ex studenti. La preside Sara Solipaca ha rivolto un saluto in video. È intervenuto anche il sindaco Diego Ferrara, presente in sale il suo predecessore Umberto Di Primio, che del Masci è stato alunno. Il volume è curato dal professor Maurizio De Innocenti, frutto del lavoro dei docenti Roberto Leombroni, Stefania Ricciotti, Pier Vincenzo De Lucci, ex preside Barbara Di Paolo e Antonio Tucci. In 400 pagine viene illustrato il secolo di vita del Masci in tutte le sue forme e nei suoi processi evolutivi nel corso del tempo, inserito nel contesto di cento anni di storia della città e in un'accurata ricostruzione di largo respiro.